Una rosetana cinica e spietata impone la sua personale legge del tre. Tre tiri in porta, tre gol, tre nuovi punti in classifica, vittoria numero tre consecutiva. I bianco-azzurri chiudono la pratica nel corso della prima frazione, gestendo il risultato nel secondo tempo e dando spazio agli ospiti. Il Martin Sicuro paga una prima frazione opaca ed una ripresa nella quale, al di là di una supremazia territoriale, evidenzia ancora una volta la sua scarsa vena in fase di finalizzazione. Assenze importanti da ambo le parti, del Gallo, Campanile e Pomponi tra i locali, Di Paolo e Scarpantoni tra gli ospiti. Si gioca sotto gli sguardi attenti dei due tecnici, Francesco Giorgini e Mino Bizzarri, presenti in tribuna. Al primo affondo la rosetana passa. Quinto minuto, la rete è tutta under. Il classe 94 Peruzzi si invola sulla corsia di destra, resiste alla carica degli avversari, pennella un preciso cross al centro per il classe 92 De Patre, volè di quest'ultimo e palla in fondo al sacco. Al secondo affondo la rosetana raddoppia, diciassettesimo, taglio di Marcheggiani che buca la retroguardia ospite, rasoiata di marrone e cinquegrana è costretto a raccogliere la palla alle sue spalle per la seconda volta. Il martinsicuro prova a reagire, al ventottesimo si vede per la prima volta in avanti, Nepa si invola, la palla gli viene deviata in corner, ma la rosetana si conferma squadra cinica e spietata, al terzo affondo triplica. Trentaduesimo è ancora Marrone che va alla conclusione della distanza, palla imprendibile per cinquegrana, terza rete rosetana e personale doppietta per Marrone. Alla quarantesimo il martinsicuro protesta, conclusione a botta sicura di Camilletti, respinge come può Di Marco e il rigore si torna quindi negli spogliatoi. Nel secondo tempo la gara scende di tono, la rosetana giochicchia amministrando l'ampio vantaggio, gli ospiti provano a spingere. Al minuto numero 22 giunge il meritato gol ospite e il classe 94 a Dari che riesce a finalizzare dal centro dell'area. Il martinsicuro continua a premere ma non vede lo specchio della porta. Al triplice fischio sono quindi solo i locali a gioire per la conquista della terza vittoria consecutiva che dà respiro alla classifica. Per il martinsicuro invece, nonostante il buon secondo tempo, è sempre più notte fonda. In prima fazione non c'eravamo, eravamo assenti e noi non possiamo concedere neanche un secondo all'avversario. Figuriamoci una squadra come la rosetana a concedere un tempo e poi il risultato è quello, 3-0 in un tempo. Un secondo tempo dove abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, però non si può fare un tempo solo, bisogna farlo 90 minuti più recupero. Manca qualcosa lì davanti ma dobbiamo essere bravi con i mezzi che abbiamo a disposizione a cercare di trarre il massimo profitto perché poi non è che possiamo inventare più di tanto. Quindi questi abbiamo e con questi dobbiamo andare avanti. Mister Catalano, possiamo parlare di una rosetana molto cinica, capace di segnare tre gol sulle uniche tre azioni create nel corso della partita? Credo che il primo tempo abbiamo fatto bene, la squadra ha giocato bene, è normale che abbiamo sfruttato le occasioni che sono presentate e quindi è un merito che va ai giocatori che hanno creato queste occasioni. Sicuramente il secondo tempo non abbiamo fatto benissimo, però era normale per loro che non avevano niente da perdere buttarsi in avanti. Nel secondo tempo si può parlare più di demeriti della Rosetano o di meriti del Martinsicuro per come è cambiata la partita? Io credo che il Martinsicuro gioca bene, gioca abbastanza bene, chiaramente ha messo nel campo tutte le risorse che avevano e ci hanno messo in qualche occasione in difficoltà, però a parte penso il gol non è che abbiano creato numerose occasioni.